Non si placa la polemica all'interno della minoranza dei consiglieri dell'Unione Comuni Alto Cilento sui costanti debiti che l'Unione sta assumendo e sulle continue richieste di dimissioni del presidente Franco Alfieri. Questa volta a chiarire alcuni aspetti sulla vicenda debiti e sulle premialità ai funzionari è il consigliere di minoranza Filomarino Giordano. Perché siete continuamente in opposizione? Non è una questione di opposizione così semplice oppure il gusto di porsi in modo contro a quello che è l'amministrazione. In verità il nostro atteggiamento è un atteggiamento critico, forse su alcuni passaggi pure un po' forte, però nel momento in cui è stata realizzata l'idea, cioè diciamo che abbiamo confrontato un po' le carte e visto un po' la situazione che c'era lì all'Unione, ci si è reso conto che ci trovavamo di fronte a una scatola vuota, nel senso che i servizi dell'Unione non venivano esercitati, neanche uno, se non che il servizio della Tars del solo Comune di Agropoli che inspiegabilmente non veniva associato a questo servizio con gli altri comuni facendo parte dell'Unione. In prima chitto, così a prima battuta, mi chiedevo perché succedesse questa cosa. Poi così un po' diciamo realizzando un po' le idee e vedendo un po' il carteggio ci si rende conto che Agropoli aveva il vingolo del patto di stabilità, per cui questo vingolo lo teneva un pochettino a freno, quella che era la possibilità di accedere a mutui o fare altri tipi di investimento. Per cui che cosa hanno pensato di fare? Questa è una mia supposizione, però è soffargata anche poi dai fatti che si sono poi verificati successivamente. Ebbè è successo che poi trasferendo questo servizio e tutto l'impianto delle passività, delle attività, dei siti attivi e dei siti passivi, loro si sono svincolati da questo peso che è appunto la spazzatura raccolta, trasporto e smaltimento e di conseguenza hanno pulito un po' il bilancio di Agropoli, però appresentendo terribilmente quello di sopra, cioè quello dell'Unione. Quindi si realizzavano alcune cose negative per il territorio. La prima è che non venivano assolutamente realizzati gli altri servizi, era proprio una stasi di quella a tutt'ora, è una stasi per quanto riguarda appunto l'esercizio di questi servizi associati, però ecco non riscuotendo i risultati passivi si andava verso una situazione debitoria oppure di crisi di liquidità. Quindi loro erano costretti a tenere, come dire, a freno poi i fornitori perché premivano che volevano essere pagati, accedevano all'anticipazione di cassa presso la BCC, presse variate milioni di euro e nel frattempo facevano dei mutui con il DL35, dei mutui della disponibilità liquida di anticipazione di liquidità. Che cosa è successo? Unendo tutti questi tre fattori ha portato l'Unione ad un indebitamento di oltre 10 milioni di euro, consacrato poi a settembre con un ulteriore milione e tre dovuto al riaccertamento dei residui, perché riaccertando i residui si sono reso conto che alcuni residui non li avrebbero mai riscosse i crediti, per cui siamo passati a 11. Questo sabato un'altra richiesta di mutuo, di anticipazione di liquidità per altri 3 milioni di euro. Quindi noi ci troviamo in una situazione veramente incresciosa, perché i comuni di Sopra Collinari non solo non ricevono nulla, ma addirittura navigano in una posizione debitoria che porta al collasso. Tanto è vero che loro nella delibera che mi hanno trasmesso, c'è scritto che se non si riuscirà ad accedere a questa ulteriore anticipazione di liquidità sarà il crack, sarà il fallimento. E noi questo non lo possiamo sopportare. Non lo possiamo sopportare perché ci sono tante persone di sopra e non abbiamo nulla contro Agropoli. Agropoli mi ha visto crescere, ho studiato qua, quindi figuriamoci che ho parenti. Quindi il problema non è Agropoli, il problema è come si gestisce la cosa pubblica. Famosi sono gli incentivi, ma poi più in là se lei avrà la gentilezza di ospitarci diremo pure altre cose, come si gestisce quell'ente. Per cui, ripeto, questa situazione debitoria è un peso enorme sull'amministrazione che tiene legato. Addirittura loro hanno sempre pensato di rinviare questa cosa. Ci sono state delle norme che obbligavano al trasferimento di tutte le funzioni, di nuove funzioni, all'Unione, proprio perché le unioni dei comuni nascono per aggregare i comuni piccoli. Quindi i comuni grandi non ha senso tenerli partecipativi all'interno di questa struttura. Quindi succede che i comuni piccoli non solo non vedono ridotte le tariffe, le tasse, le imposte, ma addirittura non ricevono alcun servizio. I debiti che stanno lì, che aspettano di essere pagati, sono debiti che appunto si riflettono in modo negativo sugli altri comuni partecipanti nell'Unione. E questo è l'aspetto, diciamo, grande dell'amministrazione, un aspetto grande però grande negativamente. E quindi questo tipo di opposizione sta portando fuori altre incongruenze, quella tipica e adesso è quella degli incentivi. Perché il Presidente quando dice, ma poi loro hanno lavorato di notte, hanno lavorato per il recupero, sono quasi degli eroi. Ma non è così, perché la funzione pubblica ha detto che il loro stipendio è onnicomprensivo, significa che quell'attività che fanno viene pagata con lo stipendio e percepiscono già uno stipendio, quindi non hanno motivo di pretendere altri premi, incentivi, quello che è. Per cui è illegittimo totalmente sia l'atteggiamento e sia per quanto riguarda appunto la corrisponzione di questi incentivi. Perché si va a premiare un funzionario amministrativo? Secondo lei? Perché si va a premiare un funzionario amministrativo? Questo non lo so, non lo so e non voglio entrare nel mero della questione. Io so che quando c'è un atto illegittimo, scusate se mi permetto di dire che sono un revisore contabile, quindi alcuni passaggi li conosco, più o meno, ma li conosco. Per cui quando vedo delle illegittimità, è una questione mia, personale, professionale, non lo so, devo gridarla e portarla fuori. Poi le ragioni, se ci sono ragioni, recontite, nascoste, io non lo so, quindi non mi permetto di dire o fare illazioni. Ma le illazioni le fa il Presidente però, perché le fa quando ha dito a noi, dicendo voi non avete nulla in merito agli incentivi corrisposti, è soltanto una vostra fantasia e un modo di porsi, mi diceva Bellino Usta, una cosa del genere. A me non è così. Non è così perché, come diceva qualche giorno fa l'amico Sebastiano, abbiamo dei documenti che provano in un modo inequivocabile quello che è la loro illegittimità. Quindi, che significa aspettare un giudice che condanna? La Funzione Pubblica ha detto che non li puoi prendere. Il revisore non conta nulla e non entra, è quello che controlla e ha detto che sono illegittimi e ha detto che l'amministrazione deve attivarsi perché restituiscono queste somme di denaro presi illegittimamente. Poi, se vi sono aspetti penali, illiciti, io non lo so, non sono penalista quindi non mi permetto proprio di dire abusi d'ufficio o altre cose, ma che ci sia stato un indebito di arricchimento o come chiamarlo, debbono far fronte a questa cosa e debbono onorare quello che è la loro dignità professionale e il rispetto verso i cittadini. Oltre al manifesto avete fatto un esposto agli organi competenti? Sì, prima di porre la questione al pubblico abbiamo verificato se quello che noi sostenevamo era giusto. Abbiamo avuto il conforto di molti enti, amici puri miei, revisori, lo stesso revisore che inizialmente era un po' dubbioso, poi ha letto bene le carte evidentemente e si conto che effettivamente quei compensi sono illegittimi.